oh devi scendere dopo no adesso che vogliamo fare questo ha finito questo va in deposito cacciate a me guardi ma come stai bene ma cosa hai fatto è ripetato ancora non è quando stai ripetendo chi mi sa la poteca l'altro non è ripetendo 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 evitare il lato sta fatendo eh non me lo ahahah hai trammocchi ahahah come stai? bene? stai bene o no? ma mi capisci? non stai pure non stai pure cacafo quello sta andando via guarda quell'altro autobus questo deve andare a deposito questo questo è questo è rotto questo mamma mia eh vieni qui che puoi vieni qui che puoi ahahahahah oh adesso si è morto non va non va non va non va non va non va non va